Esantis, la colazione è servita, non sei ancora a dieta? Guarda che se crevi non gliene frega nessuno. Infatti oggi ho deciso di mangiare. Capitano, ci ho passato un anno intero, figurati se non lo so. Guardi! Non mi ancora se non lo ricordo. Vieni, freddo. Che facciamo? Quello ci sta fregando. Ma non vedi che sta male? Apri questa porta. Che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Oh, oh! Che facciamo? Di effetto! Che facciamo?